Abbiamo attraversato quel punto, quel punto di Capaci, dove già gli uomini di Cosa Nostra e d'altri erano già in agguato. La domanda che mi faccio è perché sono qui a fare questa intervista, perché non sono saltato in aria io quel giorno, perché sapevano già che dentro la macchina non c'era Giovanni Falcone. A parlare è Luciano Tirindelli, membro della scorta di Giovanni Falcone, ex assistente della Polizia di Stato, a 29 anni dalla strage di Capaci in cui persero la vita il magistrato, la moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta. Un ricordo vivo come allora, con un grande rammarico. La cosa che fa rabbia è che ho la percezione, quasi la sicurezza, dalle notizie che mi arrivano che dopo aver lavorato per lo Stato, per l'amministrazione della Polizia di Stato, mi sento, vengo a sentire sapere che parte dello Stato lavorava contro di me, contro i miei uomini, contro Giovanni Falcone. Questa è la più grande amarezza. E parlo non soltanto, parlo di altri ufficiali coinvolti, parlo di trame oscure, di nome e cognome che ancora devono venire fuori. Per ricordare Falcone, il presidente degli Avvocati della Riviera del Brenta ha organizzato per domenica una cerimonia commemorativa alle 15.30 presso il Duomo di San Bruson di Dolo. Sono passati 29 anni e quindi chi ha 30 anni adesso, 35 anni adesso, ha vissuto quei 13 momenti della vita del nostro Paese in maniera molto distante solo perché gliel'hanno raccontati. Il compito degli Avvocati è anche quello di rinnovare e costruire ogni giorno la cultura della legalità, nel rispetto e nel ricordo di coloro che hanno dato la vita per la nostra patria. Molte le autorità che parteciperanno alla commemorazione che alternerà momenti di raccoglimento e accompagnamento liturgico a cura della pianista Vazzoler. La musica è un grande strumento di comunicazione e sono felice di poter veicolare dei messaggi positivi attraverso l'accompagnamento liturgico.